e dai quindi dopo facciamo e... e andiamo a mangiare, io ci faccio quasi si 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 cacchio! ha partito il video e noi qua cicciarare come due cacchio ma potevi dircelo che mi piace no eh mannaggia bene dai, allora in questo video vi facciamo vedere un po' di ombretti della Essence che qualcuno li prova a tutti non ne ha tantissimi invece lei ci dà dentro e li colleziono, poi per usarli è un po' meno però li colleziono almeno c'ha tutti i colori, il mio arcopaleno mario dai ce ne abbiamo un bel po' 2, 5, 7, più 4 11, 12, 17, 17 colori che culo! oh la mia nascita che culo! ti ricordo per chi non lo sapete 17 gennaio è un mio complesso ecco, è quasi un anno in più di me ecco infatti ci scambiamo sempre per sorelle ma possiamo quasi essere non per dirlo ma ci assomigliamo ma seriamente? cioè ogni persona che ci vuole ci dice che siamo sorelle tutti, siamo sorelle anche a mia mamma gli ho detto ma questa è l'altra tua figlia ti chiedi ridere va bene ma passiamo a cose un po' più seri partiamo dai due miei preferiti in assoluto che non stanno quindi dai matti dai ombrettini matti allora vi dico una cosa io quando vado al lavoro tutti i giorni più o meno nell'ultimo periodo quando capita mi vado a tutti i giorni esatto vi trucco semplici così no? eyeliner, matita e basta e quindi questi due sono i miei preferiti perché? perché sono dei ombretti sì matt effetto pelle quindi servono a mitigare tutte le venute della palpebra senza colorare troppo sì e poi lasciano la palpebra matte quindi comunque anche se lo tieni scanto poi non ti viene il lucchicchio come se non avessi su niente esatto da un bel effetto dura tutto il giorno tranquillo ok per andare al lavoro va bene allora e questi due sono questi qua della essence allora quella è di una collezione limitata sì quella nuova no no una vecchia stai c'è tipo due o tre collezioni facile lei è esperta io non mi ricordo è la boom boom la collezione e il colore è questo che si chiama si chiama cream canvas 02 ed è un color pelle sì sembra che c'è dei brillantini visto in controluce però no un pochino messo sopra no è un pochino messo su oggi non si vedrà mai è perché appunto è color pelle però è bello perché veramente dende tutta questa parte tutta matte tutta bella uniforme non si vengono pighette bello e lo stesso lavoro lo faccio con questo perché questo dà la collezione permanente si non si vedrà mai si chiama blockbuster no perfect numero 22 mi sa che questo però l'hanno tolto perché era uno di quelli che avevo preso 99 centesimi ma che vada mi mettiamo il fumetto schietta se c'è ancora tanto tra un po' andiamo a mangiare c'è light lei metterà il fumetto non capace e questo quanto costava quindi della collezione 2,50 euro 2,29 euro questo l'ho pagato 99 centesimi quando erano a pelle si sennò 1,90 euro comunque costa comunque questi due e sempre effetto matte c'è questo bello effetto così facciamo vedere giusto per farlo vedere un po' bravo fai gli su cioè vedete rispetto a quello della mia pelle è più chiaro però comunque applicato sulla mano non si vede neanche perché appunto vattelo a rendere matto vabbè dobbiamo dire che è bianco quindi per chi ha la pelle chiara cadavere come la mia va bene già se sei abbronzato mi sa che diventa un po' bianchino questo è un po' più scuro leggermente più scuro questo è il colore dell'altro sembra più bianco però è leggermente più scuro è un po' più scuro però questo era quello della collezione permanente e questo invece è quello della Bumbo per quanto si veda sì qua si vede che è un po' più scuro questo è leggermente più scuro quindi anche adesso che arriva l'estate magari va bene tanto io quindi da bianco cadavere divento bianco bianco di acqua termale giorni e giorni sotto il sole sotto il sole dopo un po' divertiamoli perché siamo pure nordiche milanesi doc mi sono milanesi poi un altro è l'ultimo map che ho perché poi non ne ho più è questo qua questo bel colore tipo jeans si chiama freestyle diciamo lo swatch bella mia mano si così come sta bene non lo so questo è il colore aggiurrino pensavo fosse più jeans quindi è nuovo non l'avete trovato prima di tanto l'ho messa su oggi ecco pensavo fosse più jeans vabbè ecco non è questo comunque è un colore matto forse anche questo ho pagato 99 non mi ricordo solo che quando c'era fumetti il 99 centesimo l'ho preso tipo è morto ah il video precedente gli è spaccata la palette esatto oggi spacchiamo un ombretto mi sembra che anche questo ne ho pagato 99 perché quando c'era l'offerta ne ho preso tipo 10 o 12 sono così quindi questi tre sono quelli matt tanto carini vai basta che te no ci ne abbiamo fatti vedere tre siamo già tipo 10 minuti va bene passiamo a questi che sono i sparkling effects allora il primo è questo qui che è un bianco pannino con i brillantini si chiama dance all night ha detto allo swatch prego lei che frasca ecco l'ora è questo vedete è bello scrivente e poi ci sono i brillantini appunto sul color oro quindi comunque una volta che andate a applicarlo sulla palpebra qua si aspetta qui si ecco 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 questo l'ho usato questo l'ho usato perché è scavato non so se si ma è scavato qui è scavato quindi questo l'ho usato poi siccome lei sa che i miei colori preferiti sono sul marroncino il giallino di quei colorini lì ho preso ho preso anche dei colorini che non mi discrezzo ho preso un oro un oro si chiama love me love me non beve love me 24 numero 24 swatch swatch oh anche questo è scavato l'ho usato ho usato anche questo si chiama due questo forse non si vede tantissimo il colore è questo è più durato con una bella base sotto rendono sono chiari non si vedono tanto mi sto vicino a quello di prima bianco sembra che scrive un po' meno però comunque si è più durato questo sono colori chiari non è che si può pretendere per andare al lavoro si per andare al lavoro e con una bella base sono buono si può il primer della elf il primer della elf oppure il doblendicare però già lì si spende un po' di più oppure quello della zoeva ah è vero si è buono ma puzza da morire c'è un olore di ammoniaca mi sa candeggina che fa schifo però è buono però te lo metti ti tappi il naso te lo metti vabbè poi passiamo al colore scuro che è questo io andiamo a farlo chiudere è nero si è un nero con dei glitter ma non è proprio nero mi sa non so l'ho usato una volta ma non mi ricordo è grigio scuro scuro grigio topo scuro il colore è questo sembra più non sembra più nero perché appunto è pieno di una volta questo è il colore vedete che è infatti finissimo di brillantini molto molto carino e adesso arriviamo di questa serie la sparkling al mio preferito che è un colore molto molto portabile un arancione fluo bello proprio questo è il mio vabbè l'arancione è il mio polore andiamo con i capelli in effetti potresti presa è il mio colore preferito l'arancione questo qua no in telecamera sembra molto più scuro perché è un po' più chiaro va lì sembra scurissimo invece è più chiaro si chiama wild one numero 28 anche questo l'ho usato non tantissimo ma l'ho usato fluociamo questo è carinissimo col giallo fa molto estate aiuto sfumato con un giallino e dopo vi faccio vedere faccio anche il giallo e qua si vedete che comunque non è molto si non è scuro nel video sembra veramente molto 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 scuro è quel colore qua invece è molto più chiaro portabile non è questo fluorescente è molto carino mi piace ho pagato anche questo carino è ori milanese ho pagato sembra un po' più francese a me vabbè è bauscia la R da bauscia ah ok stavo dicendo ah sì l'ho pagato 99 centesimi carinissimo assieme a questo io ci metto questo che è l'unico che abbiamo della collezione shimmer effect che è questo jolly giallino anche questo sembra troppo perché si è scurita perché la luce ok una nuvola anche questo sembra tanto scuro però è più giallo canarino 8 spot numero 17 questi due insieme swatches swatches oh c'è il sorco c'è il sorco e poi questi qui sono la rinconia in taglia che scrivono comunque io li metto insieme questi due questi due insieme sono carini sono tanto estate non l'ho ancora mai vista in questi due sono usate una volta forse due è appunto però sono carini insieme carissimi colori carini